ragazzi oggi il conte ha deciso di usare lei finalmente la friggitrice ad aria mo finalmente da decidista usarla faremo le patate e rosmarino ora vi faccio vedere quelle di quelle congelate però scelto vedremo così apro il conte manovra e faremo queste patate e rosmarino mo le proviamo scelto quando è cavestaglia di clarissa ormai a mia e proviamole va scelto scelto proviamo sta friggitrice philips non ci sta pagando per farla vedere avanti già su con rosmarino scelto che facciamo ci spruzziamo l'olio facciamoci l'olio scelto che scicco è romo ma chi te l'ha regalato lo spruzzino per l'olio basta però sono i free direttamente in padella mescolali un po c'è bisogno si deve un po mescolato avanti quanto 180 gradi almeno di 180 gradi capi costa 180 euro per almeno 20 minuti intanto metti 10 e poi li guardiamo vabbè ragazzi a dopo guardate ragazzi sono passati 10 minuti quasi pronte vabbè a tra poco sembra a tra poco ecco qua ragazzi pronte buonissime saranno no vabbè ma io di fritta certo spartiamo un poco di luci sì perché mi si cazzo un po di sale ma perché mi si cazzo qui l'oro ricupito ah ti accassi di clarissa sempre no vabbè fai vedere è girato per cazzo i suoi lei lei quando può mi ha detto può fare quello che vuole con la cucina e la sali e giusto ci chissi clarissa a mia a posto guardate che meraviglia ragazzi vi sono piaciute se vi sono piaciute replicate la casa vostra scelto attaccate la spina nel vicino buona scena dopo il live facebook